Rosa Puorto, ognuno è. I tempi della chioccia sono passati. Oggi tempi più non esistono. Ognuno è per se stesso. Il focolare non è più. Il papà con il figliol passeggia. Al mare li accompagna. A nutrir va, non sol con il lavoro. Bello è perché genitori entrambi siamo. A turno ognuno va incontro alla propria vita. Poesia tratta dal libro Una poesia per caso. Aletti Editore